Pubblico delle grandi occasioni al Fittipaldi per la prima uscita ufficiale della squadra. Di scena il primo derby stagionale di Serie D. Potenza e Francavilla si contendono il passaggio del secondo turno di Coppa Italia. La qualificazione se la giudicano i sinnici al termine di una gara vibrante. Un bel Potenza nel primo tempo, un Francavilla più concreto nel secondo. La prima frazione di gioco porta alla firma dei due bomber. Palumbo da una parte e Pici dall'altra. Sono loro gli autori delle marcature che lasciano il segno sulla prima frazione. Nella ripresa il Francavilla si dimostra più concreto ed intraprendente e riesce a mettere a segno il 2-1 che vale il passaggio del turno. I padroni di casa devono rinunciare a Sindice Gavric per i problemi legati ai relativi trasferimenti. Nei primi 30 minuti di gioco il Potenza è padrone del campo. Al quinto i russo-blu passano, Palumbo in fila De Gennaro spiazzato da un rimpallo. Al sedicesimo Lancellotti innesca a Pici che viene atterrato in aria ma per l'arbitro è simulazione ed estrae il cartellino giallo. L'episodio sarà destinato a far discutere. Al 28esimo Lauria innesca a Palumbo ma quest'ultimo non inquadra la porta. Un minuto dopo i padroni di casa pariggiano i conti. Bomber Picci lanciato da Lancellotti non sbaglia e mette a segno. Alla mezz'ora del primo tempo 1-1 e palla al centro. Al 31esimo De Gennaro ci mette una pezza su un tiro insidioso di Viola. I minuti trascorrono senza grossi sussulti. Al terzo della ripresa il Francavilla sfiora il raddoppio. Nessuno intercetta una palla vagante in aria. Mister Giacomarro inserisce Lolaico ex Francavilla per Lauria. Mister Lazic inserisce Mansur e Alexic per Lancellotti e Sperandeo. Al 16esimo il neo entrato Alexic ci prova su una punizione guadagnata da Gasparini. Al 26esimo Cianni batte una punizione dalla destra. Gasparini devia in corner. Sugli sviluppi dell'angolo di senso trova l'opposizione dei difensori sinnici. Al 42esimo si registra l'azione del 2-1 sinnico. Alexic suggerisce per Mansur. L'intervento di un difensore avversario è provvidenziale sugli sviluppi del corner. Il piattone di Di Giorgio è vincente. Nel primo dei tre minuti di recupero l'arbitro espelle Posillipo per fallo su Alexic. Picci si incarica della battuta ma Patania blocca. Il Potenza risponde con un tiro di Lolaico dalla distanza. Finisce così sul risultato di 2-1 il primo derby ufficiale della stagione.